Oggi ho fatto esplodere dei ragni stranissimi in VR su Kill It With Fire e alla fine ho distrutto e dato fuoco all'intera casa! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere! Buona visione! Benvenuti su Kill It With Fire con l'inglese più ambiguo del mondo ma dettagli ossia uccidilo o uccidili con il fuoco, le fiamme, l'inferno o anche i guanti colorati come il fuoco e voi vi starete chiedendo cosa andrai uccidere con le fiamme Poggo? I ragni! Questo è il gioco perfetto per chi li odia perché potete distruggerli in tutti i modi possibili! E là sei qui dentro piccolo hermano, che schifo, che schifo, hermano, hermanito, tu non puoi uscire da questo cassetto, ti ammazzo! Mamma mia, il cecchino dei ragni, il distruttore, Thanos, anzi, Ragnos! E là piccolo ragnetto, tu levati, piccolo ragnetto, vieni qua, vieni qua piccolo ragnetto, dai, vieni fuori, vieni fuori, piccolo hermanito, piccolo hermanito sei morto stecchito! E vai dentro al cassetto, schifoso! Ce ne sono altri per caso, no? Nessun ragnetto, nessun ragnetto, nessun ragnetto, però effettivamente una casa infestata dai ragni... Ma cosa ho i poteri psichici, tocco i quadri e cadono? Vediamo se ho i poteri psichici... Oh, guarda, faccio fluttuare la lampada! La lampada è finita contro la finestra e l'ho rotta! E là? Potreste darmi una mano? Ho la casa infestata dai ragni! Per favore, lì vedo una jeep gigantesca, posso usarla per scappare? No, io non scapperò mai! Maledetti! Fatevi sotto! Apriamo la porta con molta! Calma, prendi la tua checklist! Basta far cadere i quadri! Basta! Ho rotto anche la televisione! Vediamo la checklist! Allora, primo sangue! Uccidi un ragno! Cerca il vracnid! Cos'è il vracnid? È un potere? Trova i guanti vracnid nel ripostiglio! Ma io effettivamente chi sono? Una specie di supereroe... Eh, sì! Ragazzi, sono Spider-Man! Non riesco a staccare le cose dalle mani! Oh, no! Eh, ok! Non ci ries... Oh! Non ci riesco! Ragazzi, ragazzi, non riesco a staccare le... Va bene, non fa niente! Devo tenerlo in mano per sempre! Ok! C'è la mia padronge... Sì! Io sono quel gatto col maglione! Eh, Marta! Ti ricordi di quando non mi hai dato il cibo l'ultima volta? Eh, Marta! Eh, Marta! Te lo ricordi di quando non mi hai dato il cibo, Marta? Adesso la pagherai cara! Ti distruggo la casa! Però elimino i ragni, ok? È comunque qualcosa! Credo che questo si è ripostito! C'è una cassa di approvvigionamenti, manco fosse Call of Duty! Vai! Oh, schiaccia! Posso schiacciare i ragni con questo? Posso giocare a palla? Posso fare i palleggi? Eh, Seba! Campioni du Monde! Ah! Devo ficcarlo qui? Perfetto! Finalmente l'ho staccato dalle mani! Che cosa sta succedendo? Sto prendendo il vracnid! Cos'è? Una malattia? Una nuova... Oh! Oh! Iron Man! Iron Man! Vai! Che cosa sta succedendo? Mi stanno... Oh! Oh, che figata! Posso sparare le ragnatele? No, effettivamente dovrei farmi prima mordere da un ragno! Ma questo è il gioco perfetto, allora! Che devo fare? Il vracnid presenta una checklist! Tieni premuto A per vedere tutto il tuo equipaggio! In che senso? Calibrazioni vracnid in corso! Cos'è? Devo scaricare la roba tipo Among Us quando fai l'upload? E là? Ecco qua! Ah! Questo è il mio inventario! Ok! Tutto bloccato! Faccio cagare! E qui? Nuovo obiettivo! Calibra il vracnid! Lo sto calibrando! Ah! Uccidi altri ragni! Ok! Devo uccidere altri ragni per calibrarlo! E là? Dove siete? Che bel vaso! Questi fiorellini odorano di morte! Morte ai ragni! Oh! C'è un piccolo foglietto luminoso attaccato qui! Ciao! Tu sei uno stambecco! Ah! Tu sei un criceto! Vabbè il criceto è morto! Vediamo! Gli oggetti raccolti possono essere lasciati cadere sul dorso della mano! Che figata! Vai! Oh! Ho assorbito il potere della carta! Già mi sento più... Già mi sento più forte! Io da oggi sarò l'uomo carta! E posso scrivere sulla carta... Ma cos'è sta roba? Una caffettiera? Una polaroid? Cioè questa non fa le foto! Sei tu che fai la foto a lei! Posso mangiare... No! No! Preferirei mangiare un ragno a questo punto! Guarda che belle casse! E come ci insegna un saggio! Tunz! Tunz! Paraparatunz! Tunz! 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 Paraparatunz! Tunz! Ah! C'è un ragno! Tunz! Tunz! Ci sono due ragni! Paraparatunz! Tunz! Tunz! Ragazzi! Ragazzi! Che è successo? Io uccissi con il potere della musica e il problema è che ho buggato le casse? Guardate! Stanno fluttuando! Ho rotto il gioco? Dov'è l'altro ragnetto? Oh! Qui c'è qualcosa che sbrilluccica! Posso aprirti? Non posso aprirti! Ragnetto! Bisogna fare il rito di sacrificio anche per te! È tutto buggato! Questa è la mia mano! Dove è andata la mia mano? Ragazzi! Ragazzi! C'è un piccolo problema con le mie mani! La vedete la mia mano? Non posso più muoverla! Questa sì! Ah! Adesso ho il wifi! Perfetto! Prende! Qui prende! Non prende! Qui non prende più! E non prende più! Sì ma la mia... Mi ridate la mano? Si è rotto il gioco! Ecco! Mi ridai la mia mano per favore? Sti cosi hanno rotto... Guarda! Si sono rotte le mie mani ragazzi! Ragazzi! Mi si sono rotte le mani! Non posso muoverle più! Aiuto! Mi scusa signor computer! Potrebbe ridarmile ma... Ah! Adesso funzionano di nuovo? Cos'è questo gioco? Mi trolla! C'è un pallone da rugby! Che figata! Posso schiacciare i ragni! Dove siete? Dove siete? Maledetti ragnetti! Ma la vera domanda è... Quali sono i miei obiettivi? Eccoli qua! Calibra il viracnid! Uccidi ragni e sblocca tutte le capacità! Sì mi piace! Staccati! Mamma mia! Ragnetti! Dove siete? Posso prenderli con il wifi? Oh! Mi dice che è vicino! Quindi qui prende! Oh! Aspetta! Perché si è illuminato? Che figata! Che posso fare? Sparo! Non sparo! Oh! Lo posso fare... Oh! Lo posso attirare alle mie mani! Tu spostati! Che cos... Oh ragazzi! Cosa è successo? Mi è volato un vaso in testa! Tu! Spostati! Vabbè signori! Bottle flip cassa challenge! Dov'è? Ok! Il wifi qui prende... No qui non prende più! Mi sa che è qui da qualche parte! Perché vedi... No non è qui da qualche parte! Lì ce n'è uno schiacciato! Dove sono i due che ho ammazzato? Ah! Eccolo qua! Tu! Sai dirmi dove sono i tuoi amici hermano? Oh! You spin my head ride round! Ride round! Baby ride round! Baby ride round! You spin! Aspetta! Aspetta! Devo ballare con il ragno! Devo ballare con il ragno! Ah! Mi sta palla da football quello che è! You spin my head ride round! Ride round! Oh! Aspetta! Lo faccio girare! Lo faccio girare! Di più! Gira di più! You spin my head ride round! Ride round! Baby ride round! Baby ride round! You spin my head! Vabbè! Basta! Che schifo! Mi sono messo a giocare con un ragno morto! Allora! Dove sono gli altri ragni? Uscite subito allo scoperto! Ho il mio braccialetto di Ben 10! Vi ucciderà! Vedi? Mi dice 4 tac! Mo' non me lo dice più! Ma sono per caso nei cassetti? Ah! Avete capito! Se uccidiamo 4 ragni possiamo sbloccare il cassetto! C'è qualcosa qui da... Ah! Che schifo! Che schifo! Facciamo una foto al ragnetto! Facciamo una foto al ragnetto! Vieni qua! E ti spacca di botte! Eh! You spin my head ride round! Ah! Ah! Vai gira! Gira piccolo ragnetto! Gira! Gira! Come ha fatto a cadere... Se qui c'era il piano del mobile? Va bene non mi farò domande! Che devo fare? Puoi attirare verso di te gli oggetti! Ma lo so già! Lo so già! Guarda! L'avevo già fatto perché io sono molto più intelligente di te! Guarda sto accumulando tutta roba lì! È Marta? È Marta! Dov'è Marta? Marta? Dove sei? Sei tu Marta? Eh? Sei tu? Oh Marta! Eh? Ti ricordi quando l'ultima volta non mi hai dato da bere? Io te lo stavo chiedendo! Ma tu dicevi non capisco quando fai miau miau! Adesso Marta io ti distruggo la casa! Poi vediamo chi fa miau miau! Dammi la televisione! Datemi i ragni! Li spacco con la televisione! Sono pazzo! Sono completamente pazzo! Allora! Datemi altri ragni! Qua! Il GPS! Dove li segni i ragni? Oh! Attenzione! Ci sono dei ragnetti nascosti qui? Sotto i libri? Dammi i libri! Dammi i libri! Tagnetto! Eccolo qua! Eccolo qua! Schifoso di un ragno ti spacco con la televisione! Eh? No ragazzi! Vieni qua! Vieni qua! Cacoso di un ragno cacoso! Muori! Muori! Lo sto spaccando con una televisione! Vi rendete conto? Ragazzi si è buggato il ragno! Ragazzi si è buggato il ragno perché dice che l'ho spiaccicato! Ma non ha funzionato! Dove è andato? Vuoi guardare un po' di televisione ragnetto? Dai guarda un po' di televisione! Guardala! È bella! Fanno Spider-Man! Eh? Sei qui dentro per caso? Dimmi di no... Ma che schifo! Che schifo! Che schifo! Dammi la televis... Vai via! Vai via! Expelliarmus! Televisionermus! Oh ma quanto è forte sto ragno! No ragazzi si è buggato il ragno! Ragazzi si è buggato il ragno! Non lo riesco a uccidere! Il potere della televisione schermo piatto 85 pollici uccidi i ragni! Dove... Ho rotto un'altra finestra? Ma quanto mi sta costando sto lavoro da uccisore di ragni? Ermanio? Ermanito? Come stas? Vuoi giocare con me? You spin! Ma è dry round! Dry round! Baby dry round! Stai là! Nell'angolo! Che devo fare? Apri questa porta premendo il pulsante di sblocco! Ah! Ho ucciso quattro ragni quindi ho sbloccato anche le nuove porte! Sblocco in corso! Quindi vuol dire che... Ah no! Quelli sono gli obiettivi che devo completare! Lanciagli il libro addosso! Uccidi un ragno con un libro! Ehm... Immagino che i libri siano questi qui! Ho i libri! Adesso mi serve solo sapere dove sono i ragni! Cos'è? Posso sentire la musica? Raggiungi ancora tre obiettivi per sbloccare! La rachno sfida! Va bene a rachno coso? Oh! Aspetta ragazzi! Gli lancio il libro contro! Ce l'ho fatta! Al primo tentativo! Io sono un vracnid! Sono forti! E levati! Sono fortissimo! Piccolo Ermanito! Como estas? Ti volevi fare il bagno? Va! Vai a farti la doccia! Vai a farti la doccia! Vai! Vai piccolo Ermanito! Vai piccolo Ermanito! Vai! 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 You spin! Ma... Ed... Devo smetterla! Lo so che devo smetterla! Qui c'è qualche ragno! Mettiamo... Mettiamo a lavare i panni! Perfetto! Una bella sciacquata! Oh! C'è il cesso! Finalmente posso cacare! Eh... Anche se effettivamente... E tu che cosa sei? Ragazzi! È un lanciafiamme! Marta! Marta! Marta dov'è? Dov'è il quadro di Marta? L'avevo lasciato qui da qualche parte! Marta! Marta! Tesoro mi... Tesoro mio Marta! Aspetta un secondo! Non riesco a staccare! Non riesco a staccare! Marta! Ti ricordi quando l'ultima volta mi hai comprato un maglioncino con sopra Pikachu? Io volevo Charmander! Adesso ti faccio vedere che cosa vuol dire avere Charmander! Ti do fuoco all'intera casa Marta! Sì! Ah ah! Sono stati ragni! Sono proprio stati ragni! Posso caricarlo? Posso caricarlo? Come si carica? Sono proprio stati ragni a dare fuoco alla casa! Oh mannaggia! Sono proprio dei piromani! Non sono arrivato in tempo Marta! Ho finito tutte le munizioni! Ho finito le munizioni! Ho finito tutte le munizioni! Trova ancora potenza di fuoco! Prendi la... La cacca dal ba... Ah! Prendi la lacca dal bagno! Avevo letto prendi la cacca dal bagno! Brucia gli oggetti! Sì! E... Li vorrei anche bruciare! Ma ho finito le munizioni! Come lì brucia gli oggetti senza munizioni? Posso aprire lo scaffale? Fammi aprire lo scaffale! E cosa c'è qui dentro? Sono abbastanza curioso! Mi dai un fucile a pompa contro i ragni per far... Questa è una revolver! Ragazzi questa è una revol... Uuuuuh! Questa è una revolver! Sì sì metti qua! Metti qua! Questa è una revolver! Posso aprire anche questo! Aprilo! Ah! Aspetta un secondo! Aprilo! Posso aprire tutto! Sto sbloccando qualsiasi cosa! Sì ho capito che ce l'ho nell'equipaggiamento! Brucia gli oggetti! Eh io ci sto... Eh levati! Io ci sto provando Fratma a bruciare gli oggetti! Ho finito le munizioni! Nuovo potenziamento! Quindi? Posso di nuovo bruciare tutto! Dove le prendo le munizioni? Ah forse nel cesso! Ragnetto? C'è qualche altro ragnetto nelle vicinanze? Prende? Qui non prende... Eh! Qui prende tantissimo! Vediamo! No qui non prende più! Ragnetto dove sei? Ho una revolver in mano! Ho già ucciso la metà dei tuoi familiari! E ho bruciato la casa della mia padron... Che devo fare? Equipaggiamento! Ho capito che devo aprire l'equipaggiamento! Datemi ragni piuttosto! Qui! Oh! Qui dice che c'è un ragno! C'è un ragno da qualche parte qui! Dove sei? In questo cassetto! Palesemente in questo cassetto! Ragnoide schifo! Pow! 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 Vieni qua! Pow! Fuh! Mamma mia! È il pistolero del Far West! Ragnettino! Ragnettino è il mano pistolero dello Far West! Ah! No! Non posso staccare gli oggetti dalle mani! Credo che un ragno mi abbia... Punto! Equipaggiamento! Niente! Il gioco continua a dirmi che devo aprire l'equipaggiamento! Quando io l'ho già aperto! Quelli sono libri! Qui sotto non è che ci sono delle munizioni per il coso, per favore? Sì! No! Dai che schifo! Che schifo! Ah! Ho dato un pugno al muro! Mi sono fatto malissimo! Ti ucciderò con il dentifricio! Vieni qua! Ah! Quella è stata la tua rovina! E adesso tieni! Pulisci i tuoi peccati con la carta igienica! Ragno caco... Ho rotto tutto! Per favore! Per favore sì! Altre munizioni! Altre munizioni! Dov'è? Dov'è? Tu! Oh! Adesso iniziamo a ragionare! Carica le munizioni! Caricane di più! Ho munizioni infinite! Che bella libreria che hai Marta! Devi essere una persona veramente intellettuale! Per adesso! Per adesso! Vediamo! No aspetta una... Stai buono! Stai buono! Non devo caricare! Aspetta! Devo capire quanti oggetti! Brucia gli oggetti! Li ho già bruciati tutti! Quindi mi stai dicendo che posso bruciare i ragni? Piccoli hermaniti! Donde stas ragnetos? Che devo fare? Obiettivi 6 su 6! Devo uccidere l'ultimo ragno per poter uscire dalla porta! Ragnettino! Dov'è? Dov'è? Secondo me è in uno di questi cassetti! Vuoi vedere? Vuoi vedere? Sei qui dentro! Sei qui dentro! Apri il cassetto! Apri il cassetto! No! Quello è morto! Qui c'è qualcuno! No! Ce n'è un altro morto! Fammi vedere! Oh! Qui mi porta! Un bel segnale! Brucio tutto! Brucio tutto! Ragnetto! Dove sei? Ho dato fuoco all'intera casa! Ecco perché si chiama Kill it with the fire! A posto? Sono morti tutti i ragni? Non sono morti tutti! Dove lo trovo il ragno? Dice che è da questa parte! Adesso non lo dice più! Questo segnale fa cagare! Mi mettete la fibra? Ma domanda di pura curiosità! Si può aprire? Ecco! Sì! Si poteva aprire il cesso! È diventato il water di satana! Ok! Credo di aver bruciato tutti e dieci ragni! Sbloccato Esci! Ho sbloccato Esci! Quante munizioni ho? Ancora 38! Gli bruciamo un po' il bagno! Gli bruciamo un altro po' la casa! Perfetto! Oh Marta! Sì! Proprio quello che ci voleva! Adesso io vado via! Tanto le finestre le ho rotte! La porta la posso aprire! Ci vediamo in una prossima vita! Tanto ne ho ancora sei se mi dovesse succedere qualcosa! Sì! Sono un gatto abbastanza vendicativo! Ti spacco la... Che cos'è? Tiè guardati i DVD! Ho capito che devo aprire l'equipaggio a me! Che schifo! Sono sporcato di ragni! Che schifo! Sblocchiamo la porta! Oh che bello! Non ci sono altri ragni! Vero? Non ci sono altri ragni! La 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 la! Non so perché l'ho detto con questa intonazione! Ora ci sono altri livelli! Livelli? Non so parlare! Ok vediamo! Ragni eliminati 10! Equipaggiamento 3 su 3! Obiettivi 6 su 6! 1 su 1 potenziamento! Sono l'arachno distruttore completo! Ragnos! Guarda con questo dito io punto e sparo! Continua! 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 Abbiamo incontri ravvicinati! Abbiamo un nuovo livello con la casa ancora più grande! Però la vedremo in un prossimo episodio! Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere un altro video su Killito with the Fire! Mamma! Mamma mi senti? Non riesco a prendere il telefono! Qui c'è il muro della mia vera casa! Non riesco ad arrivare con la mano! Aspetta! Aspetta! Devo arrivare con la mano al telefono! Non posso mamma mi dispiace! Da da uccidere altri ragni! Sì! Sì! Vanno bene i fagioli! Per pranzo! Adesso c'ho da fare mamma! Non mi mettere in imbarazzo! Al prossimo vi... Cosa sto appunto è? Posso aggiustare la luce? Beh... Ok... C'ho le pistole... Sono confuso! Al prossimo video!